Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Corre sui binari della Pescara-Roma la prima questione forte sul piatto delle prossime elezioni regionali. Diventa il terreno di maggior dibattito politico e il collegamento su rotaie tra l'Abruzzo e la Capitale, escluso dai fondi del PNRR. A meno di un anno dal voto, il progetto di RFI, che punta a ridurre drasticamente i tempi di percorrenza tra Pescara e Roma, dalle attuali quasi quattro ore, in una delle tratte più lente d'Italia, un'ora e mezza, che si appresta ad uscire dai progetti che beneficeranno dei fondi del PNRR, fa discutere e accende le polemiche. Un'opera che ha un costo di 6 miliardi e mezzo di euro, che il centrodestra assicura si farà ugualmente e il centrosinistra cavalca come primo tassello di una campagna elettorale che si annuncia guerrita. Cambierà solo la fonte di finanziamento, si è affrettato a chiarire il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio. Non c'è alcuna rinuncia del governo al progetto di velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara, detto il presidente. Con i ministri Salvini e Fitto avevamo già condiviso l'opportunità di utilizzare i fondi della coesione in sostituzione di quelli del PNRR. Di segno totalmente opposto la visione del PD, che per bocca del suo capogruppo in regione Silvio Paolucci chiosa. Con la deviazione delle risorse del PNRR dalla ferrovia Roma-Pescara, l'Abruzzo perde di nuovo l'occasione per la velocizzazione di quella linea e aggiunge e anche la beffa di vedere quei fondi andare al potenziamento della orte falconara. Secca la replica del deputato di Fratelli d'Italia, Guerino Testa. Il progetto di velocizzazione della tratta Pescara-Roma, dice Testa, sarà portato a compimento. Tra poche settimane partirà la gara d'appalto dei primi due lotti, al quale replica il senatore PD e segretario del Partito Democratico abruzzese Michele Fina, che attacca. Non bastano poche rassicurazioni. Il governo sceglie di dare le risorse dell'Abruzzo alla linea ferroviaria Orte-Falconara, nostro competitor per i corridoi europei, conclude Fina. Si annuncia battaglia per un'opera che prevede il raddoppio dei binari e alla quale si sono opposti con forza alcuni comuni abruzzesi, come San Giovanni Teatino e Chieti, e che ha visto invece altri centri del territorio come manopello cercare una mediazione, con la posizione difficile del comune di Chieti a guida centrosinistra ma fermamente contrario all'opera, alla quale si è opposto con un ricorso al TAR. Da qui al voto la Pescara-Roma farà ancora discutere.